Cina Zonier e bentornati nel nuovo episodio di Temtem Qui con me c'è sempre il mio collega Kim Nick Salve E siamo pronti per la nostra prima sfida con una capo dojo Sofia, che sei coperta da tutti i giocatori Parlami È bello vederti ancora Non mi puoi ringraziare abbastanza Perfetto, dammi direttamente l'approvazione e la finiamo qui Prego Sì Ah ok, prima ti devo salvare per avere il permesso di sfidarti Va bene Sono nato pronto Forza Loali e Calabiss Assai pochi, assai Temtem Immaginavo, meno male 2 al 17 Ok, Calabiss e Loali al 17 Calabiss sappiamo già Cosa fargli Cioè tanto male, brutto incubo Non l'ho distrutto in un turno Ma Remma Troia E Lost ha già preso una caterva di danni Bellissimo Tra l'altro mi torna strano che abbia Loali Dato che la sua è la palestra Dell'acqua Lei è la tizia dell'acqua Non me l'aspettavo proprio lui Se in caso non ci sono abbastanza Temtem di tipo acqua Ah dici E ora uno sparsi Che mi sembra che sia solo elettro E gli usiamo Crystal Dust Vediamo quanto danno gli faccio Più di metà vita Perfetto Tesla prison su Loali Che probabilmente ci schiarterà No Mi ha fatto solo 17 danni Questa è un'ottima cosa Questa un po' meno Loali mi ha avvelenato Ma dimmi La tua battaglia come sta andando Beh c'ho Loali e Sparsi Sono avvelenati entrambi Ah li hai avvelenati? Sono avvelenati entrambi i miei Ah ok E non mi ricordo se ho qualcosa per il veleno Non credo Io non ce l'ho Ok Sparsi è caduto Adesso anche tutti e due i miei sono avvelenati Però tanto uno è Loali Che ho messo letteralmente solo per guadagnare tempo Lost non è più avvelenato Loali ha il 14 Ok Mi ha imparato la mossa Per avvelenare la gente Perfetto Se riesce a sopravvivere un altro turno Proviamo ad avvelenare No 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 Cerchiamo di buttargli giù Loali Niente Il mio Loali è morto E con Lightning posso fare solo Glass Blade Comunque appunto per ora La Capodogio di Acqua Ha giocato Un Pokémon di Acqua Un Temtem di Acqua Allora Non c'è più Sparsi Quindi posso mettere Twai Senza preoccuparmi troppo E facciamo un Pack Sull'Oali Aia Vai Oceara È molto problematico Oddio Credo che questo sia di tipo Acqua almeno Si Allora Shrill Voice La mia mossa Più potente della storia E nel frattempo curiamo Lost Direi No curiamo Lightning A cui ho dato L'Ombrello Perché se questa è di tipo Acqua Oh Ice Shuriken Figo Mi ha congelato Oh Si E mi ha ucciso Pigapick Perfetto Pigapick Hai fatto benissimo il tuo lavoro Quella abilità di Pigapick Comunque è veramente fantastica Getting cold Will inflict frozen Ok Si va bene Tanto non mi interessa Non c'è più Pigapick in campo Vediamo se riesco a Tsunami Perché ho il presentimento Che mi colpisca Tutti e due Sai che lo sta facendo Al cave Ah Surf Maia Però si è fatto male da solo Per via della Della stanchezza Quindi questo turno Gli sto facendo niente Di danno Non gli faccio un cazzo Tuai ha un punto vita Qui si tratta O di salvare Tuai O di ammazzare gli Oceara Gli ammazzo Oceara Sperando che sia Il suo asso nella manica Il problema è che Tuai adesso ha Un punto vita E tre di stamina E lightning Ok Meno male Pigapick ha attaccato lightning Lightning ha tipo Trenta punti vita E uno di stamina Quattro Curiamo Tuai Questo turno non dovrebbe avere In realtà così tanti problemi Con lightning Quindi gli diamo Un balm E vediamo quanti danni Prendiamo Troppi Non mi piace Non ho ancora abbastanza Stamina Da poter usare Shrill Voice Di nuovo Grande lightning Ha sopravvissuto Con due punti vita Pigapick A terra Gli rimane solo Tuai Non posso Perderla Perché il suo Cioè lei comunque Ha un solo Tuai E di livello più basso Del mio E non ha più mana Neanche il mio Però io adesso Ho anche Lost Io ho vinto Hai vinto? Sì Con molta fatica Io ora sto andando Prendete solo di Beccata Ho Vivi solo Lost E Tuai E appunto Beccata È l'unica mossa Che non è Non molto efficace Quindi sarà molto lenta Come cosa Però Ce la dovremmo fare Windburst Non è proprio la mossa Che vuoi fare Tuai Si è uccisa da sola Ha preferito Il suicidio A essere sconfitta Ottimo È stata una bella battaglia Mi è piaciuta Anche se Anche se speravo Vabbè L'hai battuta Prima di me In realtà Speravo però Che avesse più Temtem di acqua Ce l'aveva due Che faccia ho Che brutta faccia Perché sto facendo Questa faccia Oh mi ha dato il surf Ah è il suo Perché non Non farà surf Per un po' Ti ho fatto così tanto male Nel batterti No non sono così Presuntuoso Da dire Come posso diventare Ancora meglio Ok Sì vabbè Cercherò il prossimo dojo Rawiri Mokupuni dojo Come faccio ad andarci Con Una Con un aereo Ok Però Il problema di questa cosa È che io non ho Soldi Per la nave Ok vado Decisamente subito A curarmi Perché vuoi che non appaia Il rivale Dopo che hai battuto Il tuo primo Dojo Te che ne pensi Secondo me no Forse sulla 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 Sì può darsi qualcuno Da affrontare Ci sia lì Eh ma secondo me È il rivale Da affrontare Sono a metà strada Con i soldi Per comprarmi La bandana Fashion Che avevamo visto Ah Non è vicino alla nave La devo cercare Eh Lì nel gruppetto Sopra Sei tu No Sei tu Ah sì Calma Calma Mi manda Sofia Ti può sempre servire Un tamer Non è vero Comunque Ci manca un passeggero Un certo Tiani Scusa Ma se te ne manca uno For Dimentica Dimenticati di lei E fai entrare me Ora tocca trovarla Dove Dove Stavo andando a Turquesa Ah per andare a Turquesa Ci serviva il surf Vero Quindi adesso Dovremmo poter andare A Turquesa Fammi vedere la mappa Se mi dice qualcosa Mi faccio vedere il nome Delle location Però sulla mappa È un po' confusionare così Per uno con un senso Di orientamento Pessimo come il mio È terribile Va bene Direi allora Che dobbiamo tornare Al molo Te che dici Cosa stai facendo Più che altro Non saprei dirti Cerca di capire Quello dove era Vero i Aristola Sì Io mi sto infilando Nei vicoli ciechi In città Per farti capire Il mio Terribile senso Di orientamento Comunque sì Abbiamo anche Una missione da fare A Turquesa Incredibilmente Potremmo essere in grado Di fare una Delle missioni secondarie Se troviamo Il modo di arrivarci Giusto Qui c'era uno scrigno Ah che bello Ti fa salire sul surf Nel momento in cui Vai in acqua Direttamente Cinque time card Perfetto Qui c'è una cascata Voglio scendere Siamo tornati a Prisaldemar Vediamo se da qui Possiamo arrivare Dove vogliamo Però non puoi usare il surf Se sei Su una cosa sopraelevata Quindi dal molo Non si può usare il surf Surf Oh vediamo I temtem Che ci sono in acqua Due miei incubi Due kalazu Al 13 Vai Ho catturato un incubo Che bello Così Siamo sicuri Di averlo sempre con noi C'è anche un FOMU Quest'acqua è l'acqua degli incubi Tu dove stai andando? Io sarò Intorno al porto Di Brica del Luar E anche io sto Cioè io sono andato Premente tutto in giù Che sono sicuro Non sia il posto dove andare No ho trovato due allenatori Oh no Patricia No Stai zitta e impara Ok Hi Hi I'm Sinanzon What a cool name Oh Sì va bene È carina anche lei Ok Sicuro mi piacerebbe Lottare con Kaya Va bene I doppi sensi si sprecano Va bene Adoro questi dialoghi Per far capire la differenza tra le due Come carattere Eccetera eccetera Una ha un Piranian al 22 E l'altra ha più chi al 15 Quindi te una volta Dal porto Tu dove sei andato quindi? Io tutto in giù Che sono sicuro non sia Ok Sono sicuro che non sia la strada dove andare Invece si Sì? Perché si guardava A cosa? A Turquesa Guardavo la mappa C'è tutto in basso? C'è Tipo in basso a destra? C'è qualcosa? Ora non so se Quindi ora che ti ho sconfitto In una battaglia di Temtem Vorrai uscire con me? Ok Perché no? Mi chiedo se questo dialogo Abbia effettivamente Una Un continuo Perché mi hanno detto Puoi venire a trovarci Alla nostra casa Da Rissola Ma King Nick Dato che abbiamo appena vinto La nostra prima battaglia Contro un capo dojo Che dici di celebrare Con una battaglia amichevole? No E io ti sfido uguale Va bene Ti sto sfidando Ad una battaglia casual Casual Così King Nick Bellina C'è l'introduzione anche per Gli altri allenatori Allora Genki Hai avuto un bonus All'attacco Perché il mio Pokémon È forte No il tuo Pokémon È stronzo Happy Bastardo No le bolle Ah Mi sa che la perderò Questa battaglia in realtà Un Loali Sì Un Loali La mia mossa più potente Ti aspetta Pensavo che fosse Non molto efficace Uppercut Sul mio 2Y Invece Aha Giusto No È finita Ancora Aglio aumenta l'attacco Quando Ha Delle cose di stato Ah Figo Toglielo dalla mia vista Zuelli Si chiama Zuelli Perché La traduzione prima era Suali Sì sì I soprannomi Ben pensati Oh mamma I danni No no Te l'ho detto Questa battaglia la perdo E' sopravvissuto Gli basta Io volevo solo che sopravvivesse a questo turno Oda Ma riuscirà Tu why a sopravviverà a questo turno Il mio Direi di sì Ah valedizione Bene 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 Però l'ho dovuto danneggiare Raffaello È perché c'è un sai Sì ma io Ho solo Tu why di Pokémon Di alto livello Rimasto Povero Coda Cosa ti ha fatto di male L'abbiamo visto fin troppo Nel primo episodio Durante i caricamenti Vero Ma era la sua evoluzione Lui non c'entra niente Poverino Prima o poi lo diventerà Non credo Con quanto lo sto usando Merda Bene Ho perso Anche perché Stavo cercando di proteggerlo Il mio tu why Ha fallito il tuo pizepic Lo so che ha fallito Stavo cercando di proteggere Tu why con bamboozle E niente La prima La prima battaglia L'hai vinta tu Quindi Complimenti King Nick Per aver vinto La prima battaglia Tra di noi Continuiamo ad esplorare Vediamo di arrivare Almeno a Turquesa E di capire dove Il mio fidanzato Non ha fatto niente Ma guardare la televisione Tutto questo tempo Sei tu in questo momento Che stai guardando La televisione Dagli una chance Io sto surfando E loro invece Non hanno trovato Neanche una surfboard Però Se non hanno neanche Una surfboard Come hanno fatto Ad arrivare qui Ce l'avranno lasciati Versi a loro stessi Never believe in cakes The cake is a lie Bitch I know Come hai not a man Voglio vedere Cosa è la risposta A questo Cioè Gli ho detto Non sono un uomo E mi ha fatto Oh scusa Non l'ho visto Quindi non so Se mi ha preso Come una donna O come un bambino Che era quello Che intendevo io Tanto effettivamente Appunto il mio personaggio È un po' troppo ambivo Come aspetto Quindi Sei una Jojo reference No ma io Ma non volevo essere Una Jojo reference Di parte Quattro in poi Anche cinque Io voglio essere Una Jojo reference Di parte uno o due I bambini muscolosi Ancora non li hanno fatti Però No infatti Invece Jonathan Era Un coso muscoloso Anche nei flashback Con Danny Quindi Allora Lì ci sono le due Che mi volevano Avere a casa loro E questo è uno Che nuota Puoi Incontrare un gruppo Di calasus selvatici Che si nascondono I coralli No Basta Non farò più surf In questo mondo Anche perché Mi ha manato Anche lui Un calasus Ho trovato Lorenzo Però intanto Ah Quindi siamo vicino A Turchesa Per forza Turchesa Mi sa che è la regione Lo sai Come è la regione No 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 Ci sono già Turquesa La perla Del sillaro Io ho trovato Turquesa Tu hai trovato Lorenzo E tanto c'è da tornare Ah ciao Lorenzo Piacere di riconoscerti Perfetto Tre Sea Salt Gli posso vendere A un buon prezzo Ok quindi Devo tornare Da Giulia Però questa cosa Comunque Che tutte le volte Che L'effetto Dell'oggetto Che hai Si attiva Mi dà Veramente Fastidio Cioè rallenta le cose Si nel senso Se mi colpiscono Lightning Con una mossa Di tipo acqua Tutte le volte Mi dice che ha L'ombrello Che gli ha fatto Fare meno danni E non è che mi piaccia Molto come cosa Cioè rallenta Tutto in una maniera Incredibile Io non so dove sia Comunque Sto Questa O questo Tiani Oh ho trovato Carlos Sa troppe cose Beh è un detective Non mi ha detto nulla Speravo mi discesse qualcosa Di più Carlos Fa conto Come appoglia Turchia Ciao Yusuf E Roger Yusuf You fool Dovrò farlo Ho un cuore Piano di Giustizia Ehi ciao Edmistress Sì ho trovato Yusuf E Roger Che cosa mi regali Oh Un'esca Utilissima è stata Ti aspetta Turchesa Sì Io vado a Dare i sali Alla profumiera Perché alti te con la tizia Ci hai già parlato Ti ali No Una doppia battaglia qui Non lo so Nonostante i miei Tentem Siano di livello alto Anche nella battaglia con te Mi sembra che facciano Pochi danni Per il livello a cui sono Ok Hanno riaperto il tunnel Agua marina Dove? Sopra Brisa del mar Ho uno Scregnio Due cent Una nuotatrice Che voleva essere Lasciata in pace Quindi ovviamente Mi ha mandato contro Calabiss Perché io vado ad esplorare I posti E poi ci muoio così Questa tizia Ha fatto con il suo Saipat due volte Rabbia Non male E tra l'altro Si è danneggiato Per la stanchezza Io comunque sto esplorando Questo posto Senza sapere neanche Perché in realtà C'è un punto esclamativo In fondo Spero che sia qualcosa Che ne vale la pena Perché se no Veramente Questo episodio è terribile Vediamo se riesco A shottare un ganky A livello 19 Sì Perché il tuo A livello 20 No Ok non dovrebbero Esserci più allenatori Da qui A il punto esclamativo Che ho visto Ok è una persona Marina Ho trovato un etere plus Perché ho dato noia Ad una persona Ed era questo Il punto esclamativo Quindi bambini Se volete ottenere cose Date noia alle persone Aspetta ma è quello Che fanno i bambini Believe it Questo sotto al Camion Ha visto qualcosa Non c'è niente È incredibile Non me lo sarei mai Aspettato Oddio ho capito Cos'è Ho capito Cos'è questa cosa Cosa? Ho fatto anche Una reference Nel mio episodio Di pokemon Quando Risalgo Sulla MN Anna È una Citazione Al camion di Mew Al camion che Nel mito di pokemon Dovrebbe avere Sotto Mew Perché c'è questo camion Nella sala Della MN Anna Dove Tu teoricamente Non ci Cioè non ci puoi arrivare In modo convenzionale Diciamo Perché devi tornare Sul pontiere Della MN Anna Dopo che hai già Ottenuto surf E teoricamente Non lo puoi fare Prima di avere taglio Se segui la storia normale Però se lo fai E usi surf In quella zona lì C'è un camion Che sembra essere messo lì Completamente a caso E c'è la leggenda Che lì sotto Si nasconda Cioè si nasconda Ci sia una pokeball Con Mew C'è NPC che diceva Ci credo L'ho visto con i miei occhi C'è qualcosa lì sotto Te ci guardi E ti dice Non c'è niente qui Bellissimo Ciao profumiera Giulia Cosa mi dai Cosa mi dai Cosa mi dai Ok È un coso Ah mi ha dato Il profumo Dicendomi È una delle mie cose È uno dei miei profumi Edizione limitata È buonissimo Ma da alcuni temtem Non piace Mi sa che non è così buono Invece perché se non piace Se non piace al mio parac Vuol dire che fa schifo Ho trovato un'allenatrice Che a Nesla Quello Quello è strano Che non ce l'avesse Infatti io l'aspettavo Ma c'è Sai parte Nesla Il camaro Ti c'è tra Tutti quelli che ci sono Non è ausente Nessuno Ma poteva anche mettere Come fanno Come anche su Pokemon C'hanno quello E poi anche l'evoluzione Esatto anche C'è Nella prima generazione Nella prima generazione Lance Ci usava tre Dragonite Perché aveva Aveva pochi Pokemon Di tipo Drago Non sarebbe stato Bastava avere I tuoi due incubi Le due evoluzioni Dei tuoi incubi Nesla Saipat Esatto E sei Più il suo Quindi magari uno Lo poteva anche cavare E appunto Quindi mettevi L'evoluzione di Di Calabiss Ad esempio E la pre-evoluzione Di Calabiss Calazzo Mettevi Oceara E gli altri Che abbiamo detto Sì a parte il fatto Che per un capopalestra Il primo capopalestra Aveva tutti E sei Così Già Però sai È il primo capopalestra Ma ci siamo arrivati Dopo sette episodi Ed è doppio Esatto Quindi Diciamo che di solito Il primo capopalestra In Pokémon È fin troppo facile Come dimostro Nel mio secondo episodio Di Pokémon Dove Brock È stato più facile Da battere Di un Pidgey Ti posso aiutare Con i tuoi bambini Ma triste questo bambino Ti piace l'arte? Sono tutti molto tristi Ti troverò Un maestro Ah tu sei Sei Pasifai Ok la moglie Ah Ariadne È la più vecchia Ti piacciono Le navi? Forse ti posso aiutare Come? Come faccio? La tizia Che guida la nave Dove dobbiamo andare Oddio No dai Cioè Già mi imbuca Per caso E Ah ecco il quarto Il terzo Fedra Cosa vuoi fare Quando diventerai grande? Ho un Tententologist Ti posso aiutare io Se studi molto duramente Fedra Vuole andare Ad Arburi Chiederò al professor Costantino È mio amico E Asterion Vuole diventare Vuole volare No no Lui vuole volare Con le ali Parlerò A un capitano Ok direi che Questa casa L'ho finita Andiamo Alla vera Turquesa Ok questo Questo di fuori Invece non voleva niente Perfetto Riparliamo al tizio Vediamo se mi dice qualcosa Ah ok No niente Turquesa Bene Siamo a Turquesa Adesso C'è una casa Sono due vecchi Che guardano la televisione Gli stavo per dire Ehi ti dispiace Se mi metto davanti Così non vedi la televisione E mi ha risposto Ehi sto cercando Di guardare questa cosa E anche la E anche la donna Non sei trasparente Spostati Carini Che spettacolo Che bella cosa Comunque neanche questa È la vera Turquesa Quindi Tu Hai un punto Interrogativo Sei Giada Sono semplicemente Cinanzon Qual è il tuo ruolo No Arrivo da lì Devo andare a trovare Idris Ho trovato un'altra Missione Cioè no In realtà ho proseguito Una missione Va bene In questo modo Va più o meno bene Ci sono tre bambini Parlano e basta Oh io non l'ho trovato Ancora quel tizio Forse è questa Con un'oceara Accanto È una tizia Sì ha un'oceara Accanto Non me lo ricordo Sì direi di sì 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 Ciao sono Tiani Piacere di conoscerti E direi di chiudere qui Il nostro episodio Quindi se volete Continuare a seguirci Mi raccomando Iscrivetevi Lasciate un mi piace E alla prossima Ciao Ciao Ciao